con questo video vogliamo farvi vedere come delegare un sindacalista un collega a fare la domanda di mobilità c'è proprio una funzione che della delega proprio entrando nelle istanze online alla pagina dove ci sono le istanze dove ci sono le domande di mobilità risalendo trovate tra i menu quelle della funzioni del servizio funzioni di servizio c'è ricerca di utente per delega per cui andando a cliccare e poi c'è anche elenco delle che concesse che in tal caso non avendo ancora fatto delega sarà vuoto cioè non ci saranno persone delegate a fare la domanda di mobilità ma se si vuole ricercare un utente per la delega basta inserire il codice fiscale della persona a cui si vuole delegare che deve essere comunque persona presente sulle istanze online e inserendo il suo codice fiscale per esempio noi ne abbiamo uno proprio il nostro direttore di redazione inserendo il suo codice fiscale io lo delegherò per farmi la domanda di mobilità per cui inserisco il codice fiscale e una volta inserito il codice fiscale darò la conferma di tale codice ed ecco che esce così la persona delegata posso anche scegliere la data della decorrenza della delega per esempio visto che stiamo in questione di mobilità scelgo di farla dal da oggi 30 marzo fino al 21 aprile che è la data di scadenza delle domande di mobilità per cui andando a scegliere il 21 aprile io lo avrò assegnato la delega corretta e potrà così svolgere la domanda di mobilità pure la persona delegata per vedere chi è delegato appunto si ritorna su funzioni di servizio si va all'elenco delle deleghe concesse e per cui viene la persona che è delegata a utilizzare le istanze online al nostro posto spero che questo video tutorial sia di utilità salutiamo tutti i nostri lettori seguiteci ancora nel canale youtube nel sito www.tecnica scuola punti t perché faremo altri video che potranno essere utili per la vostra domanda di mobilità per la vostra domanda di mobilità